Fino a quando non saranno irrevocabili le dimissioni da sindaco di Erchie, per Pasquale Nicolì permangono le esigenze cautelari. Per questo motivo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, ha respinto l'istanza presentata dal difensore. Nicolì è accusato di concussione, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione a dare e atti persecutori nei confronti di un ex funzionale comunale ed è restritto nella sua abitazione dal 9 gennaio scorso, quando i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare chiesta dai PM Pierpaolo Montinaro e Giovanni Marino. Stando a quanto si legge nel provvedimento del GIP, Nicolì dovrà attendere il prossimo 23 febbraio per ripresentare la richiesta di remissione in libertà. Per quella data saranno trascorsi 20 giorni previsti dalle disposizioni di legge per rendere definitive e quindi efficaci le dimissioni presentate il giorno dopo che il Tribunale, in funzione di riesame, ha confermato la misura cautelare sottolineando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che i rischi di reiterazione dei reati contestati di inquinamento delle prove. Per Pamela Melechi, assessore comunale e servizi sociali, il GIP ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati Cosimo Lo Deserto e Aldo De Rinaldis per la revoca del divieto di dimora. Melechi ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi e, secondo il GIP, questa circostanza consente di ritenere che siano venute meno le esigenze cautelari ravvisate in serie di applicazione della misura, considerato che il pericolo di reiterazione delle condotte era strettamente connesso al ruolo di assessore in seno alla Giunta. A tutti i componenti dell'esecutivo e ad altre tre persone, tra cui il sociologo Leonardo Palmisano, fondatore del Festival Legalitria, nato per promuovere la lettura contro la devianza e la criminalità, è stato notificato all'avviso di conclusione delle indagini.